Via! Bella a tutti ragazzi, sono Andrew ProGamer e in questo nuovo video giocheremo a Happy Wheels. Via, iniziamo Iniziamo con BMX Park Via, via, via No, si, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Si, vai, vai, vai Il bello di questo gioco è che tu vuoi fare delle acrobazie farti male staccando di un braccio o una gamba o qualcos'altro e puoi anche continuare a correre Sono fiero di te Sono fiero di te Bambino sono fiero di te Facciamo, mettiamoci meno tempo Via Ecco, l'ho ricominciato Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aia Vai Andiamo a Table Run Grazie Via Noi Noi Noo 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 Perchè 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 Prendiamoci Non c'è Prendiamoci La Noo Noo Aio Mianco Ah no, l'ho già provato Nel video precedente E' anche molto doloroso Via! No, perchè fai così piano? Dico io, c'è una discesa che è limpida Diritta Sì Io sono viva Aspetta Nooo Nooo Restartiller Sì, vivo Il bambino è più veloce della bici Nooo Senza mani Infilzato Nooo Nooo Qua mi blocco Ce la faccio ancora? Nooo E' arrivata la sua ora Qual'è quella che eravamo fatta nel scorso video? Ah si, questo Prendiamo questo Ah bello, questo non sono mai riuscita a finirlo Vai, vai Vai, vai Eh ma tu ma mi chiedi troppo Nooo ecco no pensavo che si sarebbe levato mi giuro mi metteva a urlare ahhh vai come dovrei fare? ah ho capito e ora faccio quello che dico io il brutto di questa cosa è che è lentissimo vabbè io direi di terminare il video qui ci vediamo nel prossimo episodio di questo fantasmagorico gioco ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao